casa Aura in partenza alle vaccinazioni arriva alla stanza degli abbracci coronavirus 76 nuovi casi nella provincia pesarese alto il numero dei decessi si allunga a domani pomeriggio il maxi screening a Valle Foglia nuova riunione del tavolo anticrisi per il rilancio delle attività produttive buona serata e benvenuti al telegiornale di Rossini TV in questa prima edizione oggi è mercoledì 20 gennaio e in apertura partiamo parlando di scuola perché è arrivato proprio questo pomeriggio l'annuncio dall'assessore regionale con delega all'istruzione Giorgia Latini che in seguito al tavolo convocato nella giornata di oggi con il mondo della scuola ha confermato la ripresa della didattica in presenza per gli istituti superiori al 50% a partire da lunedì 25 gennaio conferma che arriva dopo giorni di discussioni grazie ai numeri dell'RT regionale e alla discesa della curva epidemiologica e torniamo a parlare anche sulla nostra tv del tema della sicurezza cittadina a Pesaro e più nello specifico della proposta riguardante il vigile di quartiere nell'ultimo consiglio comunale è stata bocciata una mozione firmata da alcuni consiglieri di centrodestra per la riattivazione del progetto vediamo il servizio tra le misure proposte per implementare la sicurezza cittadina nella mozione presentata dai consiglieri di centrodestra nell'ultimo consiglio comunale è tornato ad essere centrale il tema del vigile di quartiere la proposta bocciata con 18 voti contrari a fronte dei nove favorevoli e dei quattro astenuti ha visto le forze di maggioranza e quelle pentastellate sottolineare le difficoltà nel chiedere un maggior impiego del personale operativo e la necessità di adattare l'organizzazione del progetto alla realtà cittadina una proposta quella del vigile di quartiere che come spiega Michele Redaelli consigliere di forza italia tra i firmatari della mozione permetterebbe ai cittadini di avere punti di riferimento per segnalare disagi e problematiche delle diverse aree urbane il vigile di quartiere è una battaglia storica che portiamo avanti e che e che prevede la presenza di persone delle forze dell'ordine che siano fra le persone questo permetterebbe di realizzare una rete di territorialità una rete di sicurezza che sia capillare che sia con persone con uomini e donne delle forze dell'ordine che siano fra le persone nelle strade che vivano la situazione del quartiere e che percepiscano e che capiscano le problematiche delle persone stando all'interno di queste di queste situazioni e così facendo diventerebbero anche interlocutori certi privilegiati anche nei confronti delle persone che così possono fare segnalazioni possono chiedere rispetto ad alcuni dubbi bene ora in questo momento a pesaro esiste il vigile di quartiere ma di fatto si tratta di una sorta di sportello dove si possono fare delle segnalazioni è uno sportello che attivo per poche ore la settimana in alcuni quartieri purtroppo questa questa mozione è stata bocciata da questa amministrazione c'è stata anche una vittoria in consiglio comunale cioè che mentre per tanti anni questo argomento è stato un tabù perché la sinistra non ha mai voluto sostanzialmente affrontarlo e in questo momento nella discussione in consiglio comunale nessun consigliere neanche di maggioranza si è dichiarato contrario anzi tutti abbiamo sostenuto l'importanza di questa figura e motivo per cui noi continueremo con questa battaglia continueremo a incalzare l'amministrazione sul tema del vigile di quartiere e soprattutto della sicurezza a 360 gradi. Tra i sostenitori anche Anna Renzoni del coordinamento comunale di Forza Italia. Il nostro pallino è quello di avere una vigilanza nei quartieri di un vigile che conosca tutti gli abitanti del quartiere che possa girare per le vie che conosca le vie che sia presente sul territorio e che noti anche le anomalie. Il vigile di quartiere deve essere un deterrente naturalmente non deve fare lo sceriffo deve essere un deterrente per la criminalità e deve vigilare come dice il nome vigile o polizziato di quartiere. Questa battaglia l'ho proposta in consiglio comunale nel 2004 poi l'ho riproposta ancora quando sono anni fa pochi anni fa quando era in consiglio comunale lo stesso però non sono mai stata ascoltata dalla sinistra purtroppo la sinistra è molto disattenta sottovaluta il problema. Tante volte abbiamo chiesto l'aiuto anche della maggioranza e mi fa piacere che nel centro-destra abbia rispolverato questa cosa del vigile di quartiere perché credetemi è importantissimo. Favorevole in merito anche l'opinione di alcuni cittadini secondo cui la marcata attività di controllo nei quartieri aumenterebbe la sicurezza di alcune zone. Per quanto riguarda la zona di Villa San Martino dove abito io sicuramente incremento il discorso dei vigili sì sì soprattutto nelle zone nelle aree verdi sicuramente è importante però devo dire che tutto sommato viene gestito abbastanza bene credo questa cosa però un incremento sicuramente non fa male senz'altro. Come si faccia? Io sì abbastanza sì ma io la sera riesco poco spesso sto a casa però certo più sicurezza c'è meglio è sia per le donne che anche per i bambini. Le telecamere ci vorrebbero dappertutto sarebbe una cosa molto buona e sì meglio più ce ne sono e meglio è secondo me. Io abito alla zona 5 Torri alla notte servirebbe che si gira parecchio perché là ci sono stati anche parecchi larghi in giro se ci fosse qualcuno che gira di più si sentono un po' più osservati o osservano meno. È un maggiore deterrente verso anche i ragazzini le bande di ragazzini diciamo. Qualche anno fa c'era anche il carabiniere di quartiere di qua di là poi qualche anno fa li hanno ritolti io penso sempre per questione di organico perché se sono nel quartiere non sono in strada o ad agire in altri ambienti. Se ci fosse più personale sono convinto che si potrebbe controllare meglio la situazione nei vari quartieri della città. Ed ora cambiamo pagina e parliamo della residenza protetta Casa Aura dove in attesa che parta a breve la campagna di vaccinazione è attiva da qualche giorno la stanza degli abbracci. Allora vediamo tutto il racconto in questo primo servizio di Daniele Romagna. Vaccini, screening e l'attivazione della stanza degli abbracci. Un nuovo luogo d'incontro per permettere il contatto tra ospiti e familiari. E' questo il quadro di azioni intraprese dalla residenza protetta Casa Aura per contrastare la pandemia da Covid-19. Dopo le cicatrici lasciate dalla prima ondata per la struttura sono state introdotte rigide misure di sicurezza che prevedono uno screening destinato al personale ai 50 ospiti con test antigenici ogni due settimane e un percorso di isolamento per gli eventuali casi positivi. In partenza anche la campagna di vaccinazione. Stiamo raccogliendo i consensi del vaccino Moderna in stretta collaborazione con l'Azur perché probabilmente agli ospiti di Casa Aura, agli ospiti delle case di riposo verrà somministrato il vaccino Moderna e quindi servono ulteriori consensi da parte dei familiari. Abbiamo avuto una riunione anche i giorni scorsi con il comitato parenti che è stato informato su questo. C'è grande collaborazione con i familiari, insomma i parenti della struttura e con l'Azur. A questo proposito su richiesta dei familiari che c'era stata fatta anche nelle settimane scorse abbiamo realizzato questa stanza degli abbracci dentro Casa Aura. Siamo molto contenti perché è stato il lunedì, sono stati dei momenti molto emozionanti e dove dopo tanto tempo c'è stato proprio un contatto fisico grazie a questo spazio creato ad hoc tra i familiari e gli ospiti della struttura e quindi siamo contenti di avere accolto questa richiesta che ci chiedevano già da tempo. La prima ondata è stata drammatica, è stata sicuramente ci ha travolto perché comunque non c'era il sistema di attenzione, non c'era tutto questo sistema di livello di socio sanitario, di prevenzione perché comunque eravamo a marzo, l'emergenza, il covid non si conosceva in modo così completo o comunque adesso in modo così come si conosce adesso. Prima ondata quindi che ha visto casi di positività all'interno di Casa Aura degli ospiti presenti e invece qual è la situazione attuale? Attuale non ci sono ospiti positivi dentro la struttura, c'è stato qualche caso nelle settimane scorse ma sicuramente con tutto il monitoraggio che dicevo prima, quindi con gli spazi appositi per l'isolamento, lo screening continuo, i tamponi somministrati per monitorare gli ospiti, ovviamente la presenza degli USCA, dei medici di medicina generale che fanno un lavoro straordinario dentro queste strutture è sicuramente un grande valore aggiunto. Per adesso la situazione non ha positivi nella struttura, non ha ospiti positivi, quindi speriamo di partire presto con la vaccinazione, abbiamo avuto l'adesione dei familiari assolutamente completa, tutti i familiari hanno aderito per la vaccinazione degli ospiti, quindi speriamo di partire presto. E continuiamo a parlare di covid e ci spostiamo a Vallefoglia perché si allunga il maxi screening per la popolazione appunto di Vallefoglia che andrà avanti fino a domani pomeriggio. Dopo la decisione della giunta regionale infatti si potranno sottoporre al test del tampone rapido anche gli studenti e il personale delle scuole, come ricordato anche dai consiglieri di centro-destra presenti questa mattina al Palavitri di Montecchio. Proseguirà fino a giovedì pomeriggio lo screening di massa riservato ai residenti dei comuni di Vallefoglia, Montelabate, Petriano, Tavullia e Montecalvo in Foglia al Palavitri di Montecchio. Nei primi quattro giorni di test sono state sottoposte a tampone rapido quasi 3.200 persone, da cui sono attualmente emersi 40 casi positivi. Rispetto alle due fasi precedenti in cui si è registrata un'affluenza complessiva alla fine più o meno intorno al 20% con una percentuale di soggetti positivi inferiore all'1, 0,8-0,9% considerando che è una popolazione totalmente asintomatica in questa fase che interessa i comuni di Vallefoglia, Gradara e specularmente Terre Roverischi, Orciane, Montefelcino c'è un lieve calo di affluenza. La percentuale di positivi è sostanzialmente la stessa ma l'affluenza rispetto alle altre sedi è un pochino in calo. Nella fattispecie di Vallefoglia questo è parzialmente spiegabile con il fatto che ci sono molte grandi aziende nelle quali avvengono già periodicamente screening dei lavoratori. Sono aziende con un'alta popolazione lavorativa quindi questo probabilmente ha sottratto affluenza al sito di Vallefoglia. L'attività di screening al Palavitri è stata estesa anche al pomeriggio della giornata di giovedì per permettere una maggiore affluenza di popolazione e del comparto scuola. Studenti, professori e personale scolastico potranno sottoporsi al tampone rapido anche se residenti in comuni diversi, come ricordato anche dai consiglieri regionali di centrodestra presenti questa mattina sul posto. Siamo molto contenti, è un provvedimento molto importante che permette anche alle categorie dei giovani, del personale scolastico e del personale ATA di avere una garanzia in più per il ritorno a scuola. Quindi molto bene, complimenti e ringraziamo gli operatori sanitari e tutti i dipendenti dell'area vasta che stanno portando avanti un'organizzazione assolutamente ottimale. Quindi non possiamo che essere qui per cercare di sostenere questo progetto ulteriore a salvaguarda dei nostri giovani, delle nostre famiglie e del personale scolastico per riprendere quanto prima e tornare alla normalità. È importante che i nostri studenti partecipino a questa grande operazione per tornare a scuola in maniera sicura. Quindi siamo qui come consiglieri di maggioranza eletti nella provincia di Pedalurbino a testimonianza dell'importanza di questa operazione affinché tutti i cittadini continuino a partecipare nei punti predisposti dall'area vasta. L'invito, come hanno detto i miei colleghi, è quello in particolar modo rivolto agli studenti, al personale docente ATA, il primo possibile di venire a fare i tamponi rapidi per riaprire le scuole in sicurezza. Ci tenevamo, invito sicuramente a tutta la cittadinanza ad aderire. Rispondo al sindaco Ricci che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, pertanto tutti i comuni piccoli che ancora non hanno avuto questa possibilità dello screening rapido, del test rapido, è importante che si faccia. Quindi l'area vasta 1 e io rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli operatori, è impegnato a continuare lo screening di massa. Ed ora la consueta pagina dedicata agli aggiornamenti da coronavirus sul nostro territorio. Il servizio sanità della Regione Marche infatti ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.122 tamponi, 4.876 nel percorso nuove diagnosi e 2.246 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 417, di cui 76 casi in provincia di Pesaro Urbino. I casi totali a livello regionale comprendono 46 soggetti sintomatici, non subisce ancora inflessioni il numero dei decessi. Ieri sera sono state notificate altre 16 vittime nella Regione Marche, 7 delle quali erano residenti nella provincia pesarese. Ed ora parliamo di economia, di aziende del nostro territorio. Sono state davvero tante le tematiche al centro del tavolo anticrisi per il rilancio economico e di sostegno alle attività. produttive, convocato questa mattina dall'amministrazione comunale pesarese, diversi gli enti e le personalità che hanno preso parte a questa riunione per fare un po' il punto sulla situazione del nostro territorio. Si è riunito nuovamente questa mattina il tavolo anticrisi, convocato dall'assessore del Comune di Pesaro con delega alle attività economiche Francesca Frenquellucci e a cui tra gli altri hanno preso parte anche le associazioni di categoria. Queste ultime sono tornate a ribadire le esigenze manifestate dalle attività cittadine piegate dalla crisi generata dal Covid. Al centro delle richieste per i pubblici esercizi, l'erogazione dei ristori e la possibilità di tornare ad aprire anche in zona arancione. Le richieste, prima di tutto, ringraziamo il Vice Presidente regionale Carloni che parteciperà, anche perché così abbiamo l'interlocutore principale a cui fare determinate richieste. Le richieste sicuramente sono dei bandi mirati, sapere qual è la situazione finanziaria che ci sarà nel 2021 di possibilità per poter richiedere i ristori necessari per le nostre attività e tutto quello che possiamo lavorare noi con la regione di concerto per risolvere le problematiche che stanno affliggendo le nostre categorie. Il commercio e il settore della ristorazione sono allo stremo ormai, quindi noi cerchiamo in tutti i modi, dal nazionale fino al locale, di trovare una soluzione per poter riaprire e soprattutto di avere questi benedetti ristorichi, insomma ce n'è un gran bisogno, quello assolutamente sì. Ormai è diventata una cosa di estrema necessità e non se ne può più fare a meno, in questo caso sì, dobbiamo assolutamente riaprire. Come avevamo promesso durante l'incontro avuto con i ristoratori e le categorie in difficoltà abbiamo riconvocato il tavolo anticrisi, questa è l'ottava volta dove hanno partecipato gli enti che già avevano in questi mesi, hanno sempre dato il loro contributo e questa volta abbiamo avuto anche la partecipazione dell'assessore Carloni delle attività produttive della regione in questo modo siamo riusciti ad arrivare anche più diretti a delle richieste e in più ci ha fatto molto piacere, hanno partecipato anche i consiglieri regionali Michela Vitri, Andrea Biancani e il consigliere Nicola Baiocchi. Abbiamo posto alla regione l'importanza di stanziare dei fondi direttamente nei territori perché noi dai comuni riusciamo più velocemente a captare e capire l'esigenza dell'impresa quindi è fondamentale che noi lavorando in sinergia con la regione possiamo in questo modo erogare più velocemente in modo celere le risorse per quelle attività che sono in difficoltà. Oltre a questo abbiamo fatto presente che alcuni ristori purtroppo delle categorie, alcuni codici a teco sono rimasti fuori come quelli delle affessioni e delle pubblicità, loro purtroppo sono in difficoltà perché non rientrano nel decreto ristori, come ad esempio abbiamo fatto presente quelle attività che hanno codice a teco, partita IVA e propria ragione sociale ma sono collegati ai circoli. Queste attività purtroppo sono bloccate, hanno ricevuto i ristori però a differenza degli altri bar che possono comunque fare consegne a domicilio o a sporto sono bloccati e devono rimanere chiusi. Ho visto un'apertura da parte dell'assessore Carloni, anzi disposto immediatamente a risolvere il problema quindi questo significa che lavorando e facendo le giuste proposte chiaramente sensate con possibilità si può fare. La regione ha delle competenze che sono diverse dai comuni e quindi facendo le richieste giuste l'importante è sempre arrivare all'obiettivo. Il gruppo dell'Assemblea regionale del Partito Democratico si è riunito questa mattina ad Ancona per sottolineare la propria contrarietà alla modalità stabilite dalla Giunta Quaroli per la riapertura delle scuole. In particolare a finire nel mirino dei Dem lo slittamento al 31 gennaio per il ritorno degli studenti tra i banchi, l'organizzazione del sistema di tracciamento e i fondi annunciati dal Governo regionale per la realizzazione degli impianti di areazione nei plessi scolastici. Vi ricordo però, e qui ancora non erano aggiornati, che invece gli studenti ritorneranno a scuola appunto, quelli delle superiori, a partire da lunedì 25 gennaio in presenza al 50%. Il 2021 si apre con il dato di una nuova crescita della popolazione residente nel territorio di Mondolfo e Marotta. L'analisi dei numeri dell'anagrafe, aggiornati al 31 dicembre scorso, attesta un aumento della popolazione di 47 unità rispetto all'anno precedente, con il totale di 93 nuovi nati nell'anno 2020, un dato rilevante soprattutto a fronte dell'emergenza Covid che ha provocato un'impennata del numero di decessi in tutta Italia. Continua la solidarietà nei mercati di Campagna Amica della provincia di Pesaro Urbino. Gli agricoltori di Coldiretti Giovane Impresa e di Donne Impresa, infatti, nel mese di dicembre con l'iniziativa Spesa Sospesa, hanno raccolto oltre un quintale di cibo a chilometro zero, che è stato poi donato alla Caritas di Pesaro e destinato alle famiglie bisognose. Il 2020 è stato l'anniversario dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, ma la pandemia chiaramente non ha consentito ad Urbino di celebrare il suo più illustre cittadino, come era nei piani iniziali. È forte però la motivazione del sindaco Maurizio Gambini a recuperare parte delle celebrazioni in questo 2021. Purtroppo non abbiamo potuto celebrare a pieno, anche se abbiamo svolto delle attività che hanno dato anche qualche frutto, però dobbiamo continuare, continueremo, soprattutto con la storia di Raffaello Bambino, che comunque ha creato molto curiosità e molto interesse, perché effettivamente Raffaello ha vissuto nella città da bambino prima adolescente. Quindi questo progetto continua, continua un percorso collegato a Raffaello, probabilmente anche con degli eventi, una mostra sul Perugino, che è stato il maestro di Raffaello, come si sa. Quindi ecco, vogliamo continuare questo percorso e riferirci sempre alla nostra città che ha dato Natale a questo grande artista che è forse il più grande al mondo, come dice sempre il mio prosindaco, sicuramente Vittorio Sgarbi, che dice Raffaello sicuramente è classificato in questo modo a livello internazionale. Quindi continuiamo queste celebrazioni sperando che questa pandemia finisca presto. Io mi auguro che quest'estate non ce l'avremo più. Il 2021 di Urbino parte anche con un vecchio obiettivo della città, l'accorciamento della distanza dalla costa, un salto in avanti sulla viabilità. Quali passi si può fare in questa direzione? I passi sono già avviati, da prima della pandemia, gennaio 2020 circa, abbiamo sottoscritto questo accordo con il sindaco, io e il sindaco di Pesaro, sull'adesione al Capitale della Cultura 2033, perché insieme ce la possiamo fare e l'avvicinamento attraverso una viabilità adeguata tra Pesaro e Urbino, sicuramente ridarà vita non a Pesaro e Urbino solo, ma a tutto il territorio della nostra provincia. E questa Capitale della Cultura, Pesaro e Urbino, o Urbino-Pesaro, come la volete chiamare, sicuramente dà un'unicità, perché siamo l'unico capoluogo di provincia, che sono due città insieme, è un unicum. Quindi questo è un altro plus che noi dobbiamo presentare a chi sarà giudice di questa assegnazione della Capitale Europea della Cultura. Se lavoriamo bene insieme questi 10-12 anni, 10 anni che ci separano dalla classificazione, sicuramente lavoreremo e avremo il risultato. Avremo questo risultato, come è noto noi siamo già candidati, siamo stati non classificati proprio perché mancavano le infrastrutture e le infrastrutture sono un elemento importante. Io non ne parlo mai perché è ora di farla, perché abbiamo una strada progettata nel 1970, sono passati 50 anni e ancora per venire da Pesaro Urbino ci vuole un'ora qualche volta, quindi ecco, anche se sono pochi i chilometri. Quindi l'obiettivo del futuro è lavorare insieme a livello turistico, a livello appunto di avvicinamento del territorio e della grande opportunità di venire a vivere in questi territori. Oggi questa pandemia ci ha insegnato che si può lavorare a Milano e vivere nelle colline del nostro territorio. Questa è una grande opportunità che dobbiamo cogliere. E chiudiamo il nostro telegiornale di questa sera parlando di sport perché dobbiamo parlare soprattutto della grande vittoria di ieri per l'Ital Service nel match contro il Real San Giuseppe. I biancorossi di Mister Colini hanno infatti rimontato due volte la squadra avversaria andando a vincere per 3 a 2 grazie al gol decisivo di De Oliveira. Tre punti importanti che dopo l'uscita dalla Champions vanno a consolidare il secondo posto della squadra nella classifica di campionato. E continuiamo a parlare di sport perché vi ricordiamo che domani sera arriva una nuova puntata di insieme a canestro e allora vi raccontiamo subito quelli che saranno gli ospiti. Avremo il pivò della VL Beniamino Basso e poi Luca Pentucci che è assistente allenatore VL, Thomas Nobili che è lo speaker ufficiale della VL. Quindi appuntamento a domani sera alle 21.15 su Rossini TV. E invece questa sera vedrete su Rossini TV un programma che qualcuno di voi avrà già visto perché lo abbiamo registrato nel 2019. Alla fine del 2019 si chiama Master Fish il pesce va in onda e racconta di sfide culinarie tra cittadini pesaresi. Ecco qui questa è l'edizione che vedrete a partire da questa sera del 2019 ma quest'anno stiamo già preparando aperture permettendo di pianificare una nuova stagione dedicata proprio a Master Fish. Molto molto carino guardatelo perché oltre a vedere i ristoranti del nostro territorio vedete anche questa gara culinaria e vedrete tanti piatti a base di pesce. Quindi lo vedrete poi per diversi mercoledì a partire da questa sera. E poi vi ricordiamo come sempre la nostra rassegna stampa da lunedì al sabato. Svegliatevi assieme a Rossini TV alle 7.20 in diretta TV e Facebook e poi le repliche alle 8.15 alle 11.20 e quelle dell'ora di pranzo delle 12.30 e delle 14.00. Quindi ecco qui la nostra rassegna stampa che domani chiaramente torna e allora io vi aspetto domani mattina alle 7.20 puntuali. Intanto vi auguro buona serata e adesso c'è il meteo.